Preoccupa il caso di Legionella, il secondo che ha interessato il territorio aretino in poche settimane. La donna che la contratta, una signora che aveva meno di 60 anni, è poi morta all'ospedale di Arezzo, arrivata al nosocomio già contagiata, ferma una nota dell'azienda sanitaria. Era ospite del reparto di cure intermedie della casa di cura San Giuseppino Sanità in via Saffi ad Arezzo, che in una nota ufficiale esclude che il contagio possa essere avvenuto nella struttura e anzi precisa che le prescrizioni e i controlli richiesti poi con l'ordinanza del sindaco del 3 febbraio erano già stati effettuati e non vi era alcuna presenza del batterio. Vista la pericolosità della Legionella, è il sindaco di Arezzo ad esortare l'Asl dunque a fare chiarezza sulla catena del contagio. Il testo unico degli enti locali che pone in capo al sindaco la responsabilità della salute dei cittadini, ma pone in capo un terzo soggetto che è l'azienda sanitaria il tema della sanità, diciamo così definita. Tra l'altro il sindaco non ha nemmeno competenze, ma né lui personalmente e nemmeno ha una struttura all'interno del comune per poter gestire il tema salute e il tema sanità. Quindi si deve affidare necessariamente all'azienda, ma l'azienda bisogna che, io lo dico pubblicamente, abbia un maggior riguardo per quello che riguarda, scusate il bisticcio di parole, la circolazione di informazioni. Non soltanto, perché sennò sembra che il sindaco emette solo ordinanze quando l'Asl gli chiede di emetterle. E effettivamente così è, ma così non deve essere, perché il sindaco deve essere preventivamente informato e forse valutare insieme all'Asl se i provvedimenti che vengono presi sotto la legida scientifica medica, ma visti da un punto di vista più della diffusione della malattia, sono sufficienti o meno, visto che io sono il responsabile. E proprio in merito a questo arriva un'altra nota dell'Asl Toscana Sud-Est. L'attività svolta, si legge, dalla struttura di igiene e sanità pubblica della Asl, sul caso è stata inviata tempestivamente al sindaco di Arezzo, tant'è che lo stesso ha esercitato le funzioni previste, quale autorità in materia di salute pubblica, con l'emissione dell'ordinanza finalizzata a prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica. Nella nota inoltrata dalla struttura sono stati riportati tutti gli accorgimenti necessari sulla base degli accertamenti effettuati. Non è invece possibile, chiude la nota, fornire al sindaco ulteriori informazioni, tra cui quelle sul decesso di una paziente e sulle cause che l'hanno determinato, materia quest'ultima di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, a cui la struttura di igiene e sanità pubblica della Asl Toscana Sud-Est ha già notificato l'accaduto.